buongiorno bentrovati nuova settimana che comincia nuova settimana che comincia in compagnia di legal community e soprattutto del nostro nuovo numero di mag che vi invito ad andare subito a scaricare anche perché si tratta di un numero particolarmente ricco di articoli interessanti novità e anteprime come quella che riguarda i contenuti del nuovo report dedicato al comparto delle tecnologie legali del cosiddetto legal tech curato da legal tech italy e cupira e in pubblicazione proprio in questi giorni si tratta di un report molto interessante sia sulla come dire parte quantitativa che è quella che poi noi analizziamo maggiormente all'interno di questo numero di mag dove appunto tiriamo fuori un po' di numeri un po' di dati riguardanti il settore del legal tech nel nostro paese sia dal punto di vista qualitativo dove ci sono tutta una serie di commenti e analisi tra cui anche una mia analisi insomma a parte questo ma ce ne sono diverse e devo dire tutte molto interessanti per cui sicuramente un'anteprima da leggere e da spulciare a dovere dopodiché abbiamo nelle nostre pagine ospite in una delle sue prime uscite ufficiali il nuovo presidente dell'associazione italiana dei giovani avvocati cioè francesco perchinuno avvocato barese molto in gamba che ha appunto ottenuto la fiducia dei suoi iscritti le iscritte all'associazione Aiga per guidarla nei prossimi anni un pezzo molto interessante firmato da francesco buonaduce perché ci dà un po' quella che è l'agenda dei giovani avvocati in Italia, giovani avvocati che dimostrano di essere assolutamente interessati alla questione delle specializzazioni, di essere assolutamente interessati e consapevoli dell'importanza di aggregarsi, di svolgere la professione in modalità collettiva non più solisti del diritto ma insomma sempre di più invece professionisti intenti a unire le forze e soprattutto a focalizzare il loro raggio d'azione in quelle aree che il mercato ritiene più interessanti. Di questo ha fatto ovviamente la sua fortuna una delle realtà internazionali più radicate e più grandi nel nostro paese cioè DLA Piper che recentemente ha anche varato una riforma della sua governance quindi del suo assetto diciamo così di governo interno nel nostro paese noi lo analizziamo proprio dialogando con il managing partner Wolf Michael Kuhne e il senior partner dello studio Nino Lombardo con loro andiamo un po' a leggere quello che c'è fra le righe di queste novità di governance all'interno dello studio cercando proprio di mettere in evidenza quali sono gli obiettivi che lo studio ha puntato a raggiungere grazie a queste innovazioni. Tra queste è molto interessante evidenziare il fatto di sentire di coinvolgere lo studio e i suoi professionisti nella sua gestione, creare l'humus adatto a far nascere una generazione di futuri leader. il rapporto tra studio e suoi professionisti è qualcosa di fondamentale lo sanno bene gli avvocati di Greenberg Traurig noi in questo numero di mag abbiamo un pezzo che racconta il tour mondiale potremmo dire che i massimi vertici della law firm a livello internazionale hanno fatto arrivando anche in Italia in particolare arrivando qui a Milano per incontrare i loro soci e i loro collaboratori all'indomani insomma delle ore più buie della crisi pandemica una scelta che non era un atto diciamo che non era un atto dovuto ma è stata una scelta invece compiuta proprio per far sentire lo studio vicino ai suoi professionisti rinsaldare quei rapporti che sono la base su cui si costruisce la prosperità e il futuro di un'organizzazione professionale cosa anche questa che ben sanno in Fribli Fribli lo sapete tutti è il primo studio legale italiano costituito come società benefit è un modello di business molto particolare noi siamo andati da capo a parlarne con Giulio Graziani e Antonello Leogrande che sono i fondatori perché in questi giorni hanno dato vita anche loro a una riforma della governance ma soprattutto hanno pubblicato un report integrato di quelle che sono state le attività svolte conseguimenti svolti nei loro obiettivi di fondo principali cioè quello di creare un luogo di lavoro e un approccio alla professione che renda possibile essere felici ecco è molto interessante questo documento noi l'abbiamo letto per voi ve ne diamo conto questo documento lo commentiamo assieme ai fondatori di Fribli ma perché è interessante perché non solo anche collegandoci a quello che dicevamo prima rispetto a Greenberg Traurig è un documento che mette in evidenza come un modello alternativo di studio legale sia possibile e come in questa alternatività ci possa essere assolutamente spazio per valori come la libertà come il benessere come la felicità che sono assolutamente ciò che i professionisti di oggi perseguono e inseguono dopodiché troverete all'interno di questo numero di mag molti pezzi anche legati alla attualità più stringente come per esempio la questione e l'allarme se vogliamo anche usare questo termine cyber security con l'avvocato Mele, socio di Gianni Origoni, il nostro Giuseppe Salemi ha fatto una lunga chiacchierata per analizzare quello che è lo stato dell'arte sul fronte cyber security nelle istituzioni, nelle imprese, negli studi legali è perché questo tema della cyber security deve essere considerato assolutamente una priorità da parte di tutti gli operatori economici di tutti coloro i quali a vario titolo per varie ragioni trattano dati nell'ambito della loro attività professionale ancora un'ultima cosa che vi segnalo dal fronte ricchissimo legal di questo numero è la quinta puntata del nostro atlante dei brand legali, prosegue il nostro viaggio andiamo questa volta a darvi, a offrirvi un saggio di quella che è la storia di alcuni dei brand legali più famosi o comunque più radicati sul fronte delle boutique specialistiche per cui anche oggi vi offriremo, anche in questo caso, una bellissima panoramica ancora siamo andati a raccontarvi sulle pagine di In House Community la direzione affari legali di ATM con la nostra Ilaria Iaquinta che ha incontrato l'avvocata Michele Avescia e poi su Finance Community la nostra storia principale di questo numero di mag è il racconto di quelli che sono stati secondo noi ovviamente i 50 protagonisti della finanza in questo ultimo anno sono i profili di 50 banker, investitori, private equity, professionisti del mondo del real estate che a vario titolo vedrete insomma hanno sicuramente lasciato il segno in questo anno bene, per cui questo è un mag di quelli che dovete assolutamente scaricare, conservare, leggere e andarvi a rileggere di tanto in tanto perché insomma spunti e curiosità non mancheranno io vi ringrazio e vi rimando la settimana prossima e vi auguro di godervi una buona settimana ciao